Ecco cosa ho comprato con 79,52€ da Eurospin 16 confezioni di polpa di frutta, 4 confezioni di mirtilli, 1 peperone, 4 avocado, 1 chilo di pomodorini tasterini, 3 pacchi di pasta integrale, 1 melanzana, della feta, ricotta di pecola, ricotta normale, yogurt greco, yogurt magro, fiocchi di latte, dello speck a stick, del petto di tacchino arrosto, 2 barrette, delle pette croccanti integrali, le orecchiette, il couscous, il riso, 2 confezioni di salmone islandese, 2 tranci di salmone fresco, dentifricio, miele e 2 panini integrali